Green Garden di Mestre è passata anche da qui la lunga corsa delle prequalificazioni per gli internazionali BNL d'Italia. L'ultima tappa, quella di Venezia, inevitabile dunque una folta presenza di giocatrici pronti a contendersi gli ultimi posti per il rosso del foro italico. Nel tabellone di singolare erano 77, di cui 42 di seconda e il rimanente di terza categoria. Poi abbiamo fatto anche il master di quarta categoria di singolare doppio per un totale di 140 iscritte. In campo anche tantissime giocatrici d'esperienza che già in passato hanno provato l'emozione romana e che ancora continuano a coltivare il sogno di tornare al foro. Aveva giocato anche la Maria Elena Camerin che sappiamo chi è, purtroppo ha trovato una ragazza molto forte, molto ostica soprattutto di testa, ha perso in malo modo ma ha sempre fatto vedere la sua classe. E' la Floris arrivata in finale e si vede quando le giocatrici hanno un passato, un background diciamo di giocatrici WTA. Anna Floris non solo è arrivata in finale ma quella finale l'ha anche vinta. Conquistato il primo set per 7-5, il successo per la giocatrice Sarda è arrivato con il ritiro di Angelica Moratelli, vincitrice delle Prequali Venete nel 2017. Sì, mi dispiace tanto per la finale, per non averla giocata sino in fondo, mi dispiace per Angelica perché non è stata bene durante la partita. Diciamo che è stata una settimana dove sì, stavo in forma però non al 100%, non mi sentivo al 100%, ero anche un po' stanca. Però poi alla fine man mano che giocavo ho trovato feeling un po' con tutto, anche con me stessa. Mi dispiace molto perché sarebbe stata un'ottima finale, tutta da giocare, sia vincendo sia perdendo, sarebbe stata una bellissima partita. Purtroppo ho subito un po' il caldo, questo cambio repentino del clima, non sono riuscita a sopportarlo fino alla fine, sono ceduta ai crampi oggi, quindi purtroppo è andata così. Per strappare il pass per le qualificazioni di BNL, dove andrà anche in doppio con Natasha Pilidu, Anna Floris ha giocato 8 tornei di Prequali e all'ultima possibilità ha centrato l'obiettivo. Diciamo che ho fatto un po' il Giro d'Italia, finalmente sono arrivata a Venezia e l'ho vinto. Adesso Anna e Angelica voleranno a Roma e per entrambe l'obiettivo è lo stesso. Di divertirmi, di trovare la gioia di andare, godermi il torneo e stare bene là. È sempre un'emozione giocare a Roma, al Foritalico, io ci ho giocato anche da giocatrice quando ero in ranking, le qualificazioni e tornarci anche per giocare le prequalificazioni è sempre un'emozione, un torneo bellissimo e per me è uno tra i migliori al mondo.